C'è le carte e va a portafiburino Il gioco Nale, Andre con Vivid Red Operation Contro Nicolò, con Charlotte Vai Andre Se hai perso pesco scarto E nel turno in quinta prende più mille e cinque Ah, vero? Sì, no Se fosse in copia sarebbe più Tre Vai Vai Sì Sì Soprattutto evidente che c'è qualcosa Che incroca qualcosa in tra l'altro No, no Quando vabbè Vago uno, pesco scarto Tappo due, doppio due mila un pes Ok Tu sai come ti vedo? Assolutamente sì Se hai da sola in fronte prende più mille e cinque Da sola? Ora ci spettiamo Uno Due Caccia ce l'hai detto? Tappettino di a capo? Sì Il giorno a quattro Ciao il giorno a quattro Perché? Ma se non poi che la parte non potrebbe poterlo Non poterlo nell'aria perché non l'ho fatta Non poterlo 500 al centrale Pago uno tappo Per ogni clima ci scelgo un pezzo Se il pezzo ti manda le versi Tu furono due scartoni Ok Tutori due scartoni Uno E due Non può fare più 500 al centrale Non può fare side Tu sei più alto A livello Tre Quando entra posso dare più 2000 A un changer La vero è successo Sì Sì grazie Sì 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 Se il pezzo fosse preferito Noi Se il pezzo Quando entra Passano magari è un metro Sì Si Certo E No 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 E' quella di prima Peschi Scartica più duri Ma qui Max è quella più coputa? No, è quella rossa Va bene D'accordo Quindi sono quelli Della storia maffo però Si Si L'avanzamento delle tante Un saluto tra stato finale Un saluto tra stato finale E' un saluto Si ammazza se vuoi La cufa è pronta E' un saluto E' un saluto La smetti La f*** stai spammando solo quella mossa Ma è figo adesso posso fare una mossa No no Scartica Scartica E' un saluto Quindi ora sono come le vedo Loro le vero le vero le vero Quanti sono le? Quanti sono le tuoi? Quanti sono le tuoi? Lui è un Quante Quanti 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 Se è entrata la mia rating, posso tappare un pezzo dai più di 500.000 euro. Hai intanto preso tanti, più 1000 euro per la sua? Beh, penso adesso ci sanno. Cosa va col backup? 1000-1000. E ancora cosa fa? Splettabile. Mi raccomando, va ben capito. Sì, da 1000 euro a un gift e dei 1000 euro a qualcuno. Troppo, troppo. Un po' è troppo 2000 euro. 2000 euro. Quattro. Allora, lei va in stock, in climax, va in stock e change su lei. Lei paga uno, va via e change su lei. Tutte e due con questa climax. Lei se ne darsa tuttora, l'altra prende più 1000 per un pezzo. Qui sono 3000 perché quando entra prende più di cifra. 100 per uno. Quattro. No. Uno. Uno. Le armi sono giusto. Uno. Tre. Uno. Uno. Vado. Vado. Tuttupatta. Un po' e come diventare. C'è me lo scopio a quattro famiglia. Certo, Gito. Ma io la figlia dovevo scoprire tra guardi anni. Mi scoprirò adesso. Guarda che bella. 6. 500 a tutti, passa in uno, ti faccio scordare un livello a zero Se sei primo a lei, stai tra o meno di stock, ti puoi passare un livello a 30 Niente No, per favore Mano due Uno qua Due, due Ti ve stesso, tanto quella mi sa che era la carta più facile da Uno qua Due Due Una Due Uno Grazie a tutti. 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 3 2 2 2 3 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 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 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 7 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 Pagare qualcosa in più, e se hai due in mezzo, di più, c'è in mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo, in mezzo. La 3-2 rossa dice, quando entra cura, comunque, ma spago 3, sparo 5, e quando attacca, e la 3-2 sempre c'è in giusto, e lei c'è in giusto. La 3-2. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 9 e mezzo 10 e mezzo 15 e 12 13 Pago 3 sparo 5 3 3 Quanto? 500 su 100 Forse conti scusa 10 e mezzo 11 e mezzo 13 Sopra Quanto hai triggato? No, poi ho capito per salvarmi Si ok, però Non ho preso i dati Tu hai già triggato Quindi è questa 3 2 3 Ciao Ciao Ci sentiamo Ciao 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 Leo Ciao 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 Adesso per ogni volta che lo dice Niente cazzo per un mese Bravo A me Beh dai, anche a te non siamo sicuri Nooo Ho detto niente cazzo per un mese Quanto è quella? 10 e mezzo Sì Ogni parata di questi giocatori Niente figa per due mesi Sì Devi stare zitto Sono otto? Sono otto Sono due Sono tre Sono quattro Sono cinque Sono sette Sono otto Perfetto Queste sono tre No Pisco scarto Pisco scarto Sì